Assessore Saia, sono in arrivo otto nuovi agenti, dove saranno impiegati e da dove vengono? Sono otto nuovi agenti dei primi 22-24 che prenderemo entro la fine di maggio e tutti i nuovi agenti vanno o nel radiomobile o nei motociclisti, quindi nell'ambito della polizia stradale, del corpo oppure vanno nel reparto di sicurezza urbana, quindi nella SIS o nell'investigativo quindi sono esclusivamente uomini selezionati per l'attività di controllo del territorio quindi tutto quello che è la serie di reati predatori e di situazioni di degrado nel territorio quindi saranno in strada nei reparti quelli specializzati per questo tipo di incombenze vengono tutti da comuni della provincia di Padova, salvo un paio che sono fuori Padova ma che abitano a Padova, quindi sono tutti in avvicinamento quindi garantiamo anche il fatto di avere uomini che tutti abitano o in città o nelle zone limitrofe salvo uno che viene dalla polizia provinciale della provincia di Padova ovviamente e finalmente siamo riusciti a portare a casa uomini che sono già preparati quindi sono già operativi dal giorno dopo che arrivano dall'1 aprile Il ritorno dei militari come lo giudica? Il ritorno dei militari è una cosa che serve sicuramente e che è utile devo anche dire che comunque non tornano più con partecipazione della polizia di Stato e dei carabinieri ma da soli quindi sono squisitamente delle sentinelle che avvisano poi le forze dell'ordine nel caso ci fossero problematiche di carattere legate ai reati che sul territorio possono avvenire è una presenza sicuramente utile perché sono degli occhi delle telecamere mobili diciamo i viventi in più che ci aiutano a controllare meglio il territorio non possono intervenire ma eventualmente coadiuvano la polizia di locale o di Stato che chiameranno all'occorrenza Grazie